segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te cioè l'atteggiamento come sicuro pa è scandaloso e stupido perché ci mette nei guai stupidamente a ragione claudio anche ricordando opportunamente però vorrei tradurlo in cifre quel 12 per cento cioè di cosa stiamo di cosa stiamo stiamo a parlare stiamo stiamo parlando del 10 12 per cento di 80 mila persone all'anno cioè